carissimi pace pace del signore a voi tutti una buona giornata dio ci benedica ancora oggi 14 marzo giornata in cui vogliamo ringraziare dio per come ci ha sostenuti ci aiutati fino a questo momento giornata nella quale vogliamo consacrare la nostra vita a lui affinché egli si possa servire di noi per la sua gloria leggiamo nelle vistola di tito al capitolo 3 i versi da 3 fino a 7 dove l'apostolo scrive anche noi un tempo eravamo insensati ribelli traviati schiavi di ogni sorta di passione di piaceri vivendo nella cattiveria e nell'invidia oiosi e odiandoci a vicenda ma quando la bontà di dio nostro salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati egli ci ha salvati non per le giuste da noi compiute ma per la sua misericordia mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello spirito santo che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di cristo gesù nostro salvatore affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna sono parole molto belle molto intense cariche di significato e di insegnamento si soffermeremo brevemente su alcuni aspetti che vengono tracciati dall'apostolo paolo innanzitutto la condizione dell'essere umano lontano da dio è una descrizione sicuramente cruda ma realistica fin quando non si ha la conoscenza di dio fin quando non si vive nel timore di dio siamo inevitabilmente insensati traviati schiavi di passioni di piaceri viviamo nella cattiveria nell'invidia nell'odio ma gloria a dio c'è un'opera che quella della retenzione che è frutto della bontà di dio che in cristo gesù ha pagato il prezzo per il nostro riscatto che determina un cambiamento nella nostra vita e questo cambiamento che è reale non teorico e che è frutto della della croce di cristo gesù ci porta ad essere rigenerati e rinnovati per mezzo dell'opera dello spirito santo rigenerazione rinnovamento qualcosa che è necessario quanto mai nella vita dell'uomo alla luce di quello che è scritto al verso 3 perché non solo l'uomo così come a causa del peccato non è gradito a dio e di conseguenza è destinato alla condanna eterna ma soprattutto egli è un male per il proprio prossimo perché chi è animato da sentimenti di invidia di gelosia di odio chi è abituato a vivere nella cattiveria e ad essere schiavo di passioni e di piaceri smodati inevitabilmente non si fa scrupoli se per raggiungere i suoi obiettivi deve anche compiere il male e agire a discapito del proprio simile ecco perché l'opera della grazia è un'opera importante un'opera necessaria ed è un'opera straordinaria perché non sono le nostre buone opere che ci possono liberare dalla schiavitù del peccato non sono neanche i nostri buoni propositi che certamente sono qualcosa di buono ma che purtroppo falliscono puntualmente e solo la rigenerazione solo il rinnovamento operato dallo spirito santo nella nostra vita e dio sia lodato perché il messaggio dell'evangelo ancora oggi raggiunge tutti gli uomini e ancora oggi questo messaggio è capace di poter trasformare il peggior peccatore nel migliore degli uomini naturalmente è un'opera dello spirito santo ma è un'opera che ancora oggi avviene e grazie a dio perché possiamo vedere come in ogni luogo dove l'evangelo viene predicato ci sono segni straordinari e certo noi quando parliamo di segni straordinari pensiamo subito a miracoli potenti a morti che tornano in vita a malati che vengono guariti a moltiplicazioni del cibo per laddove c'è c'è la povertà ma dobbiamo ricordarci che il segno più straordinario dell'opera di cristo è la trasformazione di una vita perché vedete noi possiamo fare tante cose ma se la nostra vita non viene trasformata non viene rigenerata tutto quello che facciamo serve a nulla serve a poco soprattutto in vista dell'eternità stessa ed ecco perché dobbiamo continuare a predicare il vangelo e se è vero che fare del bene cosa gradita dio altrettanto vero che l'opera più grande è quella di annunziare questo messaggio che è capace di trasformare la vita delle persone perciò fratelli sorelle amici cari vogliamo ascoltare l'evangelo vogliamo predicare l'evangelo vogliamo vivere l'evangelo vogliamo permettere allo spirito di dio di poter continuare a trasformare il nostro cuore affinché la nostra mente non sia più quella vecchia caratterizzata dal peccato ma quella di cristo caratterizzata da sentimenti di misericordia di compassione di bontà di perdono sì è bello vivere in cristo ed è bello avere i sentimenti di cristo e l'apostolo paolo lo ricordava tito e credo che lo spirito di dio lo vuole ricordare ancora a noi che cioè per mezzo di quest'opera noi non solo veniamo rigenerati e trasformiati ma siamo anche giustificati e diventiamo eredi della vita eterna si fa tanto per poter vivere più a lungo possibile su questa terra e grazie a dio per come la scienza medica ha fatto dei progressi grazie a dio per come oggi la vita media sia allungata ma per quanto essa possa durare purtroppo è qualcosa che è destinata a finire ma l'anima e lo spirito non periscono con il corpo che torna alla polvere essi continuano a vivere ma vivranno in eterno solo se su questa terra saranno stati rigenerati dall'opera della grazia altrimenti ci sarà la condanna eterna che viene definita dalla scrittura morte seconda noi vogliamo agire e vogliamo operare affinché questo evangelo possa continuare a donare vita eterna a quanti ancora non lo conoscono e vogliamo pregare intercedere per coloro che hanno un cuore duro dinanzi a questo messaggio affinché possano decidere di aprirsi e di ricevere la grazia di dio nella loro vita che il signore ci accompagni ancora oggi e che la sua presenza possa darci la forza di poter camminare in modo degno della chiamata che abbiamo ricevuto in cristo gesù pace cari dio ci benedica insieme 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 benedica insieme